Non mi piace quello che sta facendo. Lei controlli qui, io do un'occhiata là dentro. Lei controlli qui, io do un'occhiata. Ho trovato del sangue, qualcuno è stato ferito. Lei controlli qui, io do un'occhiata. Lei controlli qui, io do un'occhiata. Quel telefono è staccato. Lei controlli qui, io do un'occhiata. 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 Il suo nome? Chi è lei? Agente Wilmore, FBI Vorrei farle qualche domanda Il suo nome? Jess Wong Che cosa può dirmi di quel magazzino? Non molto È un magazzino Io ci sto poco C'è molto traffico di merce che andava e veniva E sentinelle armate alle volte Ultimamente è stato molto più tranquillo Ma non è sorprendente Visto quello che sta succedendo qui Cosa sta succedendo? Non c'è più pesce in mare Ha notato qualcosa di strano di recente? No, niente Solo che il magazzino è molto più tranquillo del solito Lavorava qui l'altra settimana? Abbastanza spesso E non ha visto o sentito niente di insolito Io torno casa quando fa scuro a vedere famiglia Mi parli della sua famiglia Perché? Curiosità Vorrei sapere della sua famiglia Ok Una moglie, una figlia Di quanti anni? Sette anni Piccola per un uomo della sua età Io mangio tanto pesce Sua moglie è più giovane di lei? Abbastanza da avere una figlia piccola Da quanto vive negli Stati Uniti? Mio accentuato la di Tomevero Dieci, undici anni più o meno E da dove viene, signor Wong? Dalla Cina Sono andato via da Canton nell'85 Mi sa dire perché abbiamo trovato sangue lì dentro? No, io qualche incidente magari non so Questo l'ha già visto? No Cos'è? Lasci che sia io a fare le domande Mi offre una sigaretta? Mi spiace, non fumo Viene cancro Non guarda tv Che succede alla pesca? Non lo so, ma va male Oceano troppo sfruttato E da quanto va male? Da tanto tempo e molti se ne sono andati Non si mantiene famiglia Forse vado via anch'io Perché Mulder e Schellie avranno telefonato qui? Non so, ma è il miglior indizio che abbiamo Il sangue è preoccupante Non è un buon segno, vero? Facciamolo analizzare Forse appartiene a qualcun altro Forse è solo ferito La pallottola l'ha trapassato Sempre che sia stato colpito una sola volta Apprezzo il suo ottimismo, agente Wilmore Se sono stati uccisi Dove sono i loro corpi? Dubito che gli assassini Lascirebbero qui i corpi di due agenti federali Per farceli trovare Se fossero morti non li troveremmo mai Speriamo che siano vivi Cerchiamo delle prove Prima che sia troppo tardi Farò eseguire un test del DNA Prendo anch'io un campione di sangue Lo faccio analizzare a Washington Che ne pensa di questa? Non lo so Ma le suggerisco di toccarla in meno possibile Finché non è stata analizzata Che ne pensa di questa? Una marca comune Quella berlina ci sta seguendo da quando siamo usciti dall'ufficio Chi pensa che siamo? Qualcuno interessato a quello che facciamo Che facciamo con quella macchina? Credo che sia lei, agente Wilmore Che facciamo con quella macchina? Ehi, mister Wilmore Lieto di vederti Ciao, come va? Bene, John, e tu? Un mortorio Spero che avrai qualcosa di interessante per me Penso proprio di sì Allora? Di che si tratta? Stai lavorando a qualcosa di bello? Ma che qui è un vero mortorio Conto su di voi ragazzi dell'FBI Per avere un po' di sale nella vita Come sta tua moglie? Ex moglie Sta bene, ha portato i ragazzi da sua madre per Pasqua La tua? Mia moglie No, la tua ex madre Certo, tua moglie, no? Bene, credo Praticamente è da un po' che non ci parliamo Oh, non mi dovevi un dollaro? Per cosa? Per la partita di baseball? Non esiste Quella serpe del tuo socio imbrogliava? Cook Non sa neanche come si fa a imbrogliare Non ci contare troppo su quel dollaro I ragazzi del laboratorio protestano ufficialmente Cos'è? Sangue? Che intuizione Hai un campione per il confronto? Posso dirti il gruppo sanguigno Ma senza un target per il test del DNA Non posso fare molto di più Qual è il caso? Un paio di agenti dell'FBI speriti Pensiamo che il sangue possa essere loro Porca miseria Ti suggerisco di farlo analizzare Dal laboratorio di Washington Loro potranno confrontarlo Con il database dei due agenti Molto più in fretta Una pallottola Sembra di una 38 Non è ridotta molto bene Solita provenienza, no? Ah, sì L'ho tirata fuori da un pezzo di legno Ci lavoro No, grazie Sto cercando di smettere Che spiritoso Grazie Un mozzicone di Morley Gli darò un'occhiata Che cosa abbiamo qui? Ah, io speravo in qualcosa di meglio Te lo posso dire subito Che cos'è questo? È piombo di tipo industriale Piombo? Esatto E a che serve? Non lo so È usato per tante cose Dai pesi dei subacquei Fino alle schermature Contro i raggi X Un materiale molto comune Credi che ci sia qualche ragione Per contrabbandarlo? No Non è illegale E neanche sexy Non vedo perché qualcuno Dovrebbe avere la voglia O la necessità Di contrabbandarlo Sì 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 Perché siamo stati seguiti? Non lo so Ma chiunque sia coinvolto In questo caso Non ha paura dell'FBI Si deve trattare Di malavita organizzata C'è un legame Col declino della pesca? Non riesco a vedere Nessun legame Una pesca scarsa Non è un crimine La polvere di piombo A cosa serviva? Non lo so Quello è un bel rompicapo Potrebbe essere Sottoprodotto Della fabbricazione di armi Le consiglierei Di fare una ricerca A riguardo Se chiedessi Il test del DNA Sulla saliva Di quella sigaretta Mi sembra Un tentativo disperato Non ci perda tempo Crede che il sangue Sia di uno dei suoi agenti? Non lo posso escludere Ma aspetterò il risultato Delle analisi Prima di affermarlo Le consiglio di fare lo stesso Agente Wilmore Signor Skinner Una chiamata Sulla linea 1 Parla Skinner Sì, ho capito Devo tornare a Washington Immediatamente Porterò un campione di sangue Al nostro laboratorio Per farlo analizzare Voglio che lei Cominci la sorveglianza A quel magazzino Da stasera Quegli agenti Sono molto importanti Per me Allora, bello Come sta andando? Scommetto che ti sei Arruffianato Skinner A dovere Ma ancora non si trovano Grazie per il bollettino Ma se posso aiutarti In qualche modo? Puoi chiamare la sezione informatica Per vedere che possono fare Con quel laptop D'accordo Grazie mille Ti faccio sapere cosa scopro Grazie mille 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti